Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come GFVIP7, l'ex Jeffina Jaele Dedona nuovamente nella bufera e nel chiacchiericcio più vivo Ora sempre più lontana dal marito Brad. Che cosa sta accadendo alla coppia? Durante la sua assai intensa esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia, la bellissima 23enne ha ampiamente fatto parlare di se non solo per la sua lampante avvenenza, ma anche per i racconti per certi versi intimi e fuori dagli schermi, del suo legame con il marito Un marito decisamente molto avvenente e un autentico principe azzurro La donna ha infatti parlato di amore libero e si è molto avvicinata a svariati concorrenti Ha speso sovente splendide parole per il suo Brad, che è molto più grande di lei dal punto di vista anagrafico Difatti l'uomo ha più di 40 anni. Di mestiere svolge quello di ingegnere e pare essere molto ricco Ama profondamente la moglie, che è diventata tale quattro anni fa, tramite una meravigliosa e assai romantica cerimonia in spiaggia in Messico Brad Ford è che è un uomo molto riservato e che non ama pertanto raccontare molto di sé Sappiamo in ogni caso che è molto generoso e che vive e opera degli Stati Uniti, paese dove è nato L'indizio sui social che mette in allarme.In ogni caso sovente giunge a Roma, dove vive la sua splendida moglie Una moglie che è molto seguita sui social, in particolare sul suo profilo ufficiale Instagram Qui, da quando si è conclusa la settima edizione del GF VIP, è tornata più attiva che mai, per mostrarsi anche nella sua quotidianità Dopo averci fatto sognare durante la finalissima con tanto di baci e abbracci con il suo affascinante marito che l'ha raggiunta in studio, la Deidona ha lasciato perplessi più, con alcuni scatti che la ritraevano in occasione delle festività pasquali appena concluse, lontana da suo marito E cosa è successo alla coppia? Il matrimonio è forse giunto al capolinea? Festività trascorse in famiglia.Giaele, con look sportivo, sorridente e raggiante, è andata a fare visita alla sua famiglia, in particolare alla sua adorata mamma, alla quale è a dir poco legatissima Tanti commenti positivi da parte dei suoi estimatori, ma anche di alcuni VIP, tra cui segnaliamo la meravigliosa amico Lynn Corbaia e la bellissima Giulia Salemi Il marito, come si è potuto notare osservando le sue stories, non era lì con lei, bensì a Malibu In ogni caso pare che il loro amore proceda a gonfie vele che nessuna nube abbia fatto per tanto capolino sul loro matrimonio Un matrimonio che, lo ribadiamo, lascia parecchia libertà a entrambi i coniugi e che rende molto felice la giovanissima Giaele Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao